Finisce senza vincitori ne vinti l'incontro del Casinini fra Trestina e Sasso Marconi, un pareggio a reti inviolate nell'unico 0-0 di giornata, squadre che muovono la classifica a piccoli passi, portandosi a quota 22 punti ma rimanendo in vischiate nelle sabbie mobili della zona calda della classifica. Nella prima fase del match si assiste ad una gara abbottonata con le due squadre che concedono pochissimi spazi, considerata anche la posta in palio di uno scontro diretto come questo. Da segnalare al settimo minuto un episodio che ha fatto discutere, Villanova entra in area, salta in dribbling Minelli e poi interviene Longhi, seguono le proteste del Trestina che richiedeva il calcio di rigore, per l'arbitro è soltanto calcio d'angolo. Al ventiquattresimo dalla cabina di regia Morvidoni pesca in area Villanova ma il suo colpo di testa non c'entra lo specchio. Alla mezz'ora prima occasione per il sasso Marconi, Barranca fa partire un tiro velenoso ma Nonni ci mette una pezza con un super intervento e con gli Emiliani che conquistano il primo calcio d'angolo di giornata. Sugli sviluppi del corner ancora Barranca cerca di impensierire Garbinesi che blocca però la palla sventando il pericolo. Ma l'occasione più nitida se la procura il Trestina nel finale della prima frazione di gioco. Villanova dalla sinistra sgancia l'assist per Ridolfi che fa partire il tiro di prima intenzione a portiere battuto ma salvataggio sulla linea della retroguardia Emiliana è pericolo scampato per la squadra di Roberto Moscariello che difende lo 0-0 con le unghie e con i denti. Il secondo tempo si riaccende dopo tre minuti con un batti e ribatti in area del sasso Marconi e con l'occasione che si conclude con il tiro di Morvidoni che però non ottiene i frutti sperati. All'ottavo minuto secondo episodio in area di rigore con Cordella che viene atterrato da Galassi ma anche in questa circostanza per l'arbitro Valerio Crezzini della sezione di Siena non ci sono gli estremi per decretare il calcio di rigore. Al ventinovesimo occasionissima Trestina con una gran botta di Enrico e ottima risposta del portiere Monari che evita il peggio. Sarà l'ultima vera chance della partita perché nel finale tengono banco le proteste del tecnico della Sassomarconi Roberto Moscariello espulso dalla terna arbitrale. Tensione in panchina vista anche l'alta posta in palio ma risultato che rimane inchiodato sullo 0-0. Si poteva, si è potuta sbloccare. Prendi il lato positivo che magari in mezzo alla ripartenza come è successo con il Castelvetro che ti hanno punito. Invece la classifica è rimasta sempre la stessa. Tanto questo è un campionato che fino alla fine non ti salvi alla ventesima e non retrocedi alla ventesima. Fino all'ultimo è una battaglia, fino all'ultimo saranno risultati a sorpresa, fino all'ultimo le parite saranno sempre più equilibrate. Nel ritorno al di là degli acquisti o meno delle varie squadre chiaramente il campionato è più equilibrato. Sì, sono soddisfatto. Come ha detto lei è un campo difficile. L'imposta in palio era molto alta per ragioni di classifica. Era molto difficile anche perché stiamo un pochino riprendendo dopo gli acquisti che abbiamo fatto. rimesso un po' a posto la rosa e mi stanno dando soddisfazione perché sono inseriti quelli nuovi molto bene. Abbiamo un buon equilibrio e poi stiamo tirando fuori delle caratteristiche che prima non vedevo come un pochino più di concentrazione, un po' di grinta che ci vuole sempre in questa categoria. E quindi sono contento perché il campo è difficile.